È sotto il riflettore da qualche tempo la campagna che prelude alla candidatura di Agrigento, Capitale della Cultura 2025. Ci faccia capire perché è importante il riconoscimento di questo tipo per una città ovviamente, ma evidentemente anche per tutto il territorio. Quali sono i benefici in termini turistici, in termini di interesse economico, evidentemente anche da parte di investitori? Io credo che i benefici siano su tantissimi piani, sicuramente i benefici economici legati al turismo, legati alla promozione del territorio, non soltanto del comune di Agrigento ma di tutto il territorio, ma io credo che ci sia anche da mettere in evidenza l'importanza di un beneficio che riguarda direttamente la popolazione di questi territori. Poi il patrimonio monumentale, storico, artistico di questo territorio, gastronomico, i prodotti legati al cibo, al vino, eccetera, sono tutti lì. Quindi è ovvio che questo determinerà poi effetti dal punto di vista economico, dal punto di vista turistico, eccetera, ma non con l'obiettivo di raddoppiare il numero di turisti, ma con l'obiettivo di far crescere la nuova produzione artistica e culturale di questi territori in modo da attrarre altri turisti. Indipendentemente dal risultato di questa candidatura, si tratta di un progetto che comunque potrà essere utile per lo sviluppo di questo territorio, per il rilancio di una provincia che, contrariamente i luoghi comuni, così come diceva la dottoressa Venezia, non è assolutamente espressione di quella povertà che vuole essere presentata dai media. Vero è che ci sono degli indici indiscutibilmente negativi, vero è che ci sono pesanti criticità che registriamo quotidianamente, vero è che ci sono centinaia di contraddizioni, ma è altrettanto vero, che ci sono delle potenzialità, delle risorse umane, culturali, paesaggistiche, storiche, che abbiamo il sacrosanto dovere di utilizzare al meglio. Ecco, qual è la tua opinione sul fatto che comunque qualcosa siamo di fronte ad una svolta in ogni caso? Sì, certo, ci auguriamo ovviamente che il titolo vada ad agrigento in questo senso, anche perché guardando i precedenti ci sono tanti esempi di cittadine che non erano proprio al centro, insomma, turisticamente, ad esempio Matera, una delle città che forse può essere presa come esempio del fatto che un titolo di questo genere ha veramente generato un cambiamento di questo tipo e ci auguriamo che possa fare la stessa cosa. Ha tirato le luci dei riflettori, tutti abbiamo parlato di Matera, oggi Matera ha flussi turistici E ancora oggi rimane Capitale della Cultura, in questo senso non ha più il titolo, però voglio dire, in questo senso ha generato un processo di questo tipo, quindi ci auguriamo che la stessa cosa possa avvenire qui. L'amministrazione ha accolto subito con grande entusiasmo e anche con grande voglia questa di fare, di mettersi in gioco con questo progetto che è stato proposto di agrigento Capitale della Cultura, perché proprio riteniamo che oggi bisogna lavorare di squadra, oggi bisogna avere una rete con tutti i comuni, tutti i comuni devono lavorare per assieme, collaborare, se si lavora assieme, noi siamo convinti, allora possiamo veramente fare crescere questo territorio, farlo crescere da un punto di vista economico, da un punto di vista turistico, da un punto di vista anche culturale, da un punto di vista educativo, da un punto di vista sociale, cioè chi si chiude nel proprio recinto non potrà mai, a un modesto modo di vedere, ma dico, riteniamo anche noi come amministrazione, è come diventa limitante, il chiudersi per noi non lascia spazio alla crescita.